Salve, mi chiamo Clelia Esposito, lavoro a Napoli, l'azienda De Colli, nel presidio Monaldi. Sono la responsabile della terapia intensiva post-operatoria dell'ospedale Monaldi. Nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 10 maggio, ovviamente anche l'ospedale Monaldi, come tutti gli ospedali italiani, hanno subito il forte impatto Covid e quindi è stato costretto ad affrontare le problematiche che di volta in volta si sono presentate con delle decisioni rapide. Nel caso appunto del nostro ospedale si è reso necessario quindi riorganizzare terapie intensive Covid e non Covid per affrontare da una parte l'emergenza epidemiologica e dall'altra consentire la continuazione dell'attività chirurgica, soprattutto oncologica. Per questa ragione siamo stati quindi chiamati a riorganizzare in termini sia di risorse umane che tecnologiche i posti letto di terapia intensiva all'interno del blocco operatorio, cedendo gli ambienti e appunto i posti letto della terapia intensiva post-operatoria alla rianimazione Covid. Questo è stato possibile riorganizzando il blocco operatorio. In realtà quattro sale operatorie del nostro blocco operatorio che ne comprende dieci sono state dedicate alla terapia intensiva nella quale si sono creati sostanzialmente otto posti letto di terapia intensiva. In che modo? Creando un posto letto all'interno di ogni sala operatoria è un altro posto letto di terapia intensiva all'interno della singola presala operatoria. In realtà poi in corso d'opera si è reso necessario abolire uno dei posti letto di una delle presale per consentire la creazione di un posto letto veramente isolato che servisse soprattutto per il paziente e sospetto Covid che in ogni caso capitava la nostra osservazione. Quello che è accaduto è un po' in linea con quanto riportato nella recente indagine a COI sull'attività chirurgica che su scala nazionale ha subito, quella elettiva intendo ovviamente, una riduzione di circa l'80% e il rimanente 20% lo dobbiamo considerare ripartito tra chirurgia oncologica e urgenza emergenza. Ovviamente anche da noi è stato così e ovviamente l'attività chirurgica ambulatoriale, quindi tutti quelli che erano i controlli dei pazienti chirurgici sono stati totalmente sospesi, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti o quelli operati che necessitavano di un controllo postoperatorio. Ovviamente tutto questo si è ripercorso sulle liste d'attesa che si sono logicamente allungate, così come in tutta Italia, ma nonostante questo siamo riusciti a portare avanti un programma chirurgico dignitoso che per quanto riguarda ad esempio l'attività chirurgica della chirurgia toracica non ha visto una riduzione del numero di interventi fatti sulle patologie oncologiche. Mi spiego, noi normalmente confrontando il periodo in questione, cioè i due mesi compresi fra il 13 marzo e il 10 maggio del 2020, confrontandoli con l'analogo periodo del 2019, abbiamo riscontrato un numero di interventi sostanzialmente sovrapponibile per quanto riguardava la chirurgia oncologica, quindi anzi la chirurgia toracica addirittura ha portato a termine un numero di interventi superiore rispetto all'anno precedente. Ciò non è stato per la chirurgia generale che ovviamente perdendo tutta l'attività chirurgica di tipo non oncologico, in particolare la nostra chirurgia generale che è un centro di riferimento nazionale per la chirurgia della parete addominale, quindi tutti i disastri di parete, questi tipi di interventi non sono stati eseguiti e l'attività si è concentrata prevalentemente sulla chirurgia tumorale ovviamente perdendo questa grande fetta e perdendo anche l'attività chirurgica della bariatrica ha mantenuto il numero di interventi di chirurgia oncologica sovrapponibile a quello dell'anno precedente. Ovviamente questo è stato un modello riprodotto anche sull'urologia e sulle urgenze della chirurgia vascolare, alcune invece chirurgie hanno pressoché soppresso la propria attività tipo l'otorino che ha operato con cadenza bisettimanale e l'oculistica che ovviamente non ha avuto una sala operatoria. Le sei sale operatorie quindi rimanenti sono state ripartite appunto assegnandone due alla chirurgia toracica che aveva il maggior turnover, una alla chirurgia generale, una all'urologia e una per le urgenze. Con la ripresa dell'attività chirurgica normale quindi con la riapertura delle nostre terapie intensive e quindi nel momento in cui l'impatto covid era passato abbiamo cercato di favorire quelle liste d'attesa che erano rimaste sostanzialmente bloccate come appunto la chirurgia oculistica e o torino portando un programma operatorio che fosse più prolungato come orario quindi fino alle 18 in elezione durante i giorni feriali quindi da lunedì almerdi. La nostra direzione generale ha compreso e percepito perfettamente il problema del sovraccarico lavorativo degli anestesisti rianimatori anche del personale infermieristico e quindi sono state stipulate dei contratti di convenzione interna per consentire agli anestesisti non soltanto di portare avanti l'attività elettiva dell'ospedale e le urgenze ma di continuare a mantenere perché questa azienda ha mantenuto una terapia intensiva dedicata ai pazienti covid dal 13 marzo a tutt'oggi. Considerando che c'è sempre una componente soggettiva individuale che appartiene alla storia personale di ciascuno di noi che comunque si ripercuote anche sul lavoro devo dire che siamo stati un gruppo molto coeso in tutto questo tempo c'è stato una un grande supporto di ciascuno nei confronti dell'altro nei momenti di maggiore difficoltà di sovraccarico lavorativo nel senso che la se c'è stato un momento di stanchezza fisica c'è stato una stanchezza fisica in questo periodo si è cercato di sopperire con l'aiuto dei colleghi. Io sono molto orgogliosa del gruppo che in qualche modo dirigo e di cui sono capofila proprio perché è un gruppo di colleghi molto molto giovani estremamente motivati e molto hanno dimostrato una grande professionalità durante questa esperienza. C'è sicuramente questo rischio però proprio la diciamo la difficoltà di portare avanti un'attività chirurgica oncologica e quindi di non sfavorire e penalizzare i pazienti che avevano bisogno di intervento chirurgico ha fatto sì che i percorsi assistenziali e quindi le scelte sia da un punto di vista chirurgico che anestesiologico fossero altamente orientate verso una mini invasività, una multimodalità e quindi orientati verso dei percorsi dei nancy recovery. Tutto questo non si può fare se non c'è un background importante, se non c'è una familiarità con tutte queste tecniche quindi alla fine ognuno ha svolto il proprio ruolo e il risultato finale è sempre un lavoro di squadra e non può esistere quindi lo sviluppo di un settore se anche un settore parallelo non svolge la propria attività cercando di ottimizzare i tempi e gli spazi. Nel caso nostro per esempio l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stata volutamente circostanziata con una riduzione certamente di occupazione quindi una riduzione del numero dei ricoveri ma veramente cercando di portare quanto meno possibile il paziente in un ambiente intensivo affinché si potesse favorire un'eventuale emergenza futura. Dunque noi in Regione Campania come sapete stiamo attraversando forse il momento di picco massimo dei contagi questo ovviamente questa volta non ci coglierà impreparati nel senso che a parte come dicevo la terapia intensiva dell'ospedale dei Colli che è situata al corpo G dell'ospedale Cotugno che è attiva e sta funzionando in questo momento ed è anche purtroppo con un'occupazione di posti letto del 100% sono stati la Regione Campania ha organizzato altri centri covid sia all'ospedale di Caserta che all'ospedale del mare. Per quanto riguarda noi come ospedale Monaldi siamo in ogni momento pronti a riorganizzare così come abbiamo fatto durante il periodo caldo nuovamente posti di terapia intensiva nel blocco operatorio cercando di razionalizzare l'attività chirurgica e quindi mantenere i posti letto disponibili per i pazienti covid anche perché abbiamo visto che tutto questo non ha creato problemi diciamo su quella che era il numero di interventi chirurgici che abbiamo garantito e ad esempio per la chirurgia toracica i dati che abbiamo registrato sono tra l'altro in linea con quello che è accaduto nel resto d'Italia. Da una recente survey conduta proprio da Siarti è emerso proprio che il 70 per cento dei centri italiani che fanno chirurgia toracica non hanno assolutamente modificato la propria mole di lavoro, il proprio carico di lavoro e la mole di interventi e soltanto l'8 per cento aveva interrotto la propria attività quindi noi siamo in linea con quello che è accaduto nel resto d'Italia e di questo siamo abbastanza orgogliosi perché come è facilmente intuibile a volte i sistemi organizzativi delle aree degli ospedali del sud Italia sembrano sempre un po' più difficili da mettere in atto in cosa che invece non è stata. Diciamo che in questi ormai sono 23 anni di specialità e devo dire ai miei tempi si cominciava a parlare di ebola e in qualche modo immaginavamo che se un giorno fosse scoppiata una bomba nucleare o ci fossimo trovati con una pandemia da ebola saremmo stati chiamati in causa ma certamente non immaginavamo minimamente che questa poteva essere una possibilità reale. Io sono comunque dell'idea che il covid finirà come tutte le cose e da questa esperienza dovremo raccogliere i frutti di quello che abbiamo imparato che certamente è tanto. Abbiamo sicuramente imparato e compreso quindi l'importanza come dicevo di trattare i nostri pazienti chirurgici nella maniera meno invasiva possibile per cercare di avere dei percorsi veloci all'interno dell'ospedale e delle degenze brevi. Abbiamo sicuramente imparato quanto è importante il programma di preabilitazione del paziente e quindi qualunque tipo di intervento chirurgico va preparato e va messo in condizione il paziente di affrontare questa cosa nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo imparato che probabilmente i sistemi telematici nel futuro ci aiuteranno a migliorare le nostre performance e quindi anche a lavorare con una maggiore sicurezza ed efficacia e abbiamo certamente imparato che va colmato il gap regionale e che l'Italia dovrebbe garantire nei prossimi anni un'assistenza sanitaria quanto più possibile omogenea su tutto il territorio e ragionare in termini di organizzazione sanitaria in ambito di hub e spokes e andare a concentrare le patologie a maggiore intensità di cura in aree dedicate. Questo al fine di razionalizzare meglio, organizzare meglio e implementare l'impatto del paziente al paziente chirurgico su tutto il nostro territorio. La SIART in questo sta svolgendo un lavoro enorme sia sul piano della formazione sia e quindi cercare di rendere omogenee le performance degli anestesisti e degli animatori e della comunicazione perché soltanto attraverso il potersi parlare, il poter comunicare c'è la possibilità di scambio che aiuta certamente nella riorganizzazione.